Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa... Ma questo è veramente l'uccello d'acqua del sacro nanto? L'uccello d'acqua del sacro nanto. I suoi movimenti sono eleganti come quelli di un gabbiano che plana sull'acqua, ma la sua potenza è così grande e crudele che niente si può paragonare ad essa.